Dopo l'ottimo Wolfenstein II The New Colossus, la serie Bethesda torna con due nuove protagoniste e inedite meccaniche cooperative. Ve ne parliamo nella recensione di Wolfenstein Youngblood. Wolfenstein Youngblood si presenta come una sorta di spin-off della serie Bethesda. È infatti ambientato in un 1980 alternativo, dove alcune parti del mondo sono ancora sotto il controllo dell'esercito nazista, nonostante le sconfitte inflitte dai tedeschi da BJ Blaskovic. In questa realtà il valoroso combattente americano è però sparito nel nulla e spetta alle sue due figlie, Jess e Soph, capire cosa gli sia successo. Partendo da questa premessa, Youngblood segue per la prima volta una vocazione cooperativa, ed è possibile scegliere se giocare offline, con l'intelligenza artificiale che controlla uno dei due personaggi, oppure online. Organizzarsi con un amico è chiaramente l'opzione migliore, tanto che esiste il cosiddetto Buddy Pass. Si tratta di un biglietto che per 10 euro in più consente di giocare in due su un'unica copia del gioco. Durante le missioni le due protagoniste devono spesso interagire per aprire insieme porte e attivare interruttori, ma è importante anche coordinarsi per eliminare silenziosamente le guardie, gestire i boss tenendo le distanze dal nemico, distribuire munizioni e così via. Le sorelle Blaskovic sono dotate di energia indipendente, ma condividono tre vite. Quando una delle due viene atterrata, l'altra deve rapidamente raggiungerla e soccorrerla, pena la perdita di una di queste vite. Si può scegliere di sacrificare volutamente una delle tre possibilità per tornare velocemente in gioco e aiutare la propria compagna, ma attenzione, ci sono momenti in cui il game over viene punito con una certa severità, rimandando all'inizio della missione. Per quanto riguarda la struttura, Youngblood utilizza l'impianto classico dei Wolfenstein, con ottime scene di intermezzo che fanno da collante a missioni sparatutto di stampo tradizionale, all'interno delle quali ci si muove tra vari scenari. La collaborazione con Arkane Studios ha donato a level design tanti percorsi alternativi e un'inedita verticalità. Gli sviluppatori hanno lavorato molto sulle mappe, anche perché ci si trova a visitarle più e più volte nel corso della campagna. Nell'ambito degli incarichi secondari è del tutto normale, ma una volta esauriti i segreti e le trovate del level design, il backtracking comincia a pesare un pochino. Eppure spesso è impossibile sottrarvisi. Pur essendo subito accessibili, le missioni finali richiedono capacità che vanno sbloccate utilizzando punti esperienza e denaro, aggiungendo nuove manovre e migliorando le armi che compongono l'arsenale. Anche stavolta le armi non sono molto numerose, ma sono dotate di una precisa personalità e ben gestite dal punto di vista delle munizioni, che chiedono di usare tutto ciò che si ha a disposizione. La campagna si completa in circa dieci ore procedendo dritti e completando solo un quinto delle missioni secondarie. La versione PC, con gli ultimi driver Nvidia, appare ben ottimizzata e scalabile grazie alla presenza di tante regolazioni. Al netto di qualche piccolo difetto, le ambientazioni urbane sono ben realizzate e sfruttano un ottimo sistema di illuminazione, che si rinfrange sugli oggetti valorizzandoli e mai appiattendoli. Gli anni 80 non vengono valorizzati dal punto di vista della cultura pop in chiave nazista, se non nella forma di sbloccabili come audiocassette e cover di film, ma gli scenari hanno una loro personalità. Sarebbe stato bello avere a disposizione un maggior numero di ambienti e magari qualche richiamo più chiaro alle attrazioni di Parigi, ma i contenuti restano comunque molti e ben realizzati. A parte i boss, troppo simili tra loro, è stato fatto un discreto lavoro di varietà anche sui nemici, sebbene la loro intelligenza artificiale molte volte non sia particolarmente brillante. La colonna sonora è ottima, ma non la migliore di sempre per la serie, mentre gli effetti sonori sono sempre verosimili. Il doppiaggio italiano, infine, è caratterizzato da interpretazioni del cast sempre molto convincenti. Wolfenstein Youngblood miscela gli elementi tipici della serie con inedite meccaniche cooperative e una spiccata verticalità. In definitiva, Wolfenstein Youngblood è assolutamente consigliato a tutti gli amanti del genere. Sapete usare una pistola? Certo che sì. Avete mai ucciso dei nazisti prima d'ora? Ascolti, siamo nate per uccidere i nazisti. Hai sentito Jacques? Nate per uccidere i nazisti. Ho roato. Ho roato. Ho roato. Ho roato. Ho roato. Grazie a tutti